I giudici se vogliono giudicare bisogna che si facciano eleggere, i giornalisti se vogliono scrivere non devono criticare, i sindacalisti devono alzarsi in piedi quando mi vedono entrare, l'opposizione non deve opporsi, se no non vale, e insomma una buona volta lasciatemi lavorare, ho sei ville in Sardegna e le bollette da pagare, e forse dovrei farmi ricoverare, mi consenta, mi consenta, senta, senta, c'è troppa anomalia in questa società violenta, I giudici se vogliono restare non ci devono arrestare, la stampa estera in Italia non la devi riguardare, e io a casa mia mangio con chi mi pare, ma insomma Bettino smettila di telefonare, io guarda più di quello che ho fatto proprio non lo posso fare, ecco, ho sei televisioni sulle spalle da mantenere, e forse dovrei farmi ricoverare, mi consenta, mi consenta, senta, senta, c'è troppa finanza in questa società violenta, e i tre saggi, se sono saggi, non si devono inviciare, e la Rai deve essere complementare, e per Dio spiegatemi cosa vuol dire complementare, e non dite che non so l'italiano che mi fate incazzare, e i giudici, i processi li devono stipulare, e i giornalisti non devono esagerare, e forse dovrei farmi ricoverare, e forse dovrei farmi ricoverare, e forse dovrei farmi ricoverare, mi consenta, mi consenta, senta, senta, c'è troppa poca fine investita in questa società violenta. E i giudici si alzino in piedi, prima di giudicare, e se la mafia mi vota, io che cosa ci posso fare, il milione di posti l'avevo detto per scherzare, i rigori contro il Milan non li dovete dare, che sono fascista non me lo dovete dire, i giudici il paese non lo possono stentrare, voglio 3.000 guardie del corpo che mi devono guardare, e un ritratto di 6 metri vestito da imperatore, i giornalisti prima di scrivere si facciano eleggere, e gli agitvrop vadano in Russia ad agitvropare, a me gli avvisi di garanzia non me li dovete mandare, e non chiamatemi pocassa o vi faccio fucilare. E forse mi dovrei un po' calmare, e forse mi dovrei un po' calmare, e forse mi dovrei un po' calmare, ma se io sono Dio cosa ci posso fare, mi consenta, mi consenta, senta, senta, non c'è più religione in questa società violenta. Silvio Berlusconi descartò dimitire come il primo ministro dell'Italia, a pesar delle indagazioni in suo contra, per parte della socialità di Milano, per presunta corruzione. Berlusconi n'è allora che il richissimo patron del 2e gruppo economico dell'Italia, la fine Il 4e gruppo economico dell'Italia e vendero Grazie a tutti.